ecco la situazione originale qui c'è la batteria di serie che adesso andrò a rimuovere e poi installerò i vestiti costruiti nel mezzo così vai ok mi fai vedere la seconda velocità quella veloce vai vai dove vuoi ecco questa è l'installazione temporanea i fili sono tutti havaioni però dovrò metterli a posto successivamente questo è il sistema di attacco della batteria ricaricabile tutto spento e adesso faremo un test ho già verificato che i 12 volt sono qui in questa posizione poi successivamente metterò a posto eccoci qua ecco noi mi puoi partire adesso la macchina è regolata a 12 volt e già va più forte di prima eh sì va proprio più forte di prima siamo solo a 12 volt noemi 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 per favore fammi vedere la prima velocità quella che va piano quella lì brava vai qui siamo a 6 volt ok metti quando sei a posto metti la seconda quella che va più veloce vai cambio al volo vai eh sì fermati fermati noemi fermati che facciamo una modifica ancora sì 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 tieni il cofano aperto ok facciamo un piccolo upgrade della potenza poi te lo spiego cos'è un upgrade allora certo mani sul volante prova oh cosa è successo hai già saltato il fusibile sicuro pausa pausa officina qua abbiamo fatto il primo cadavere fusibile da 20 ampere eccoci qua abbiamo messo il fusibile da 30 ampere ora noemi puoi partire vai la peppa va fortissimo partire noemi v noemi andiamo a correre d attenta vai sterza gira quel volante vai è un po' difficile da guidare così eh stop